Sicuramente ricerca il fatto di poter essere raggiunta dai pazienti e dalle persone interessate alla cura e diciamo ricerca di iniziare un rapporto, perché poi il rapporto si deve mantenere del tempo, non è solo un primo contatto per una visita che poi finisce, ma è l'inizio di un potenziale rapporto di assistere la persona nel mantenere la sua salute nel tempo. Bisogna appunto evidenziare le proprie competenze distintive, ad esempio la nostra struttura ha una particolare competenza sulla protesica ortopedica, piuttosto che nell'urologia, dell'utilizzo del robot da Vinci, quindi alcuni elementi distintivi vanno sottolineati per far comprendere il valore aggiunto che si può dare ai potenziali pazienti e che quindi possono loro ricevere nella nostra struttura rispetto ad altre. Ormai l'utente deve da una parte quasi essere esperto di quello che vuole andare a conoscere, è un po' un cane che si morde la coda, però da una parte si va ad informare ma rischia la disinformazione, per cui deve avere un potere di discernimento in questo contesto di abbondanza di informazione che è tutt'altro che ovvio avere e purtroppo in questo senso è pericoloso, quindi l'eccesso di informazione è un pericolo, è un vantaggio perché sicuramente è accessibile facilmente a tutti, ma senza un potere di discernimento si rischia di interpretare in modo erroneo i messaggi e quindi arrivare a conclusioni sbagliate.